Abbiamo un'edizione limitatissima, sono poco meno di 20.000 bottiglie in tutto il mondo. Il prodotto è... Non era lo champagne per fortuna. Il prodotto è un Bollanger Rosé millesimo 2006, un millesimo particolare perché è un millesimo che non verrà scelto per fare altre tipologie di champagne, quindi non ci sarà Grandanet, non ci sarà Redi. Il 2006 è stato declinato solo in questa versione speciale di Rosé. Un rosé per chi conosce Grandanet Rosé, che è un rosé più simile a un grande vino rosso che ha uno champagne, quindi un rosé di veramente grandissima importanza. In questo caso Bollanger c'è un po' stupito, quindi ha un po' ringiovanito lo stile, c'è un po' meno dosaggio di quello che è il vino rosso di Côte d'Enfant, quindi di quel grande pino nero che loro fanno in esclusiva su questa zona di questa collina da I, che si chiama proprio Côte d'Enfant. Solo il 7% di questo vino, infatti è stato aggiunto a questo mix tra un 72% di vino nero e un 28% di chardonnay, proprio per dare un gusto molto più festo rispetto al classico Grandanet Rosé.